Prosegue il recupero delle facciate di storici palazzi di Pordenone. Questa volta non in corso Vittorio Emanuele, dove nel corso di 20 anni sono stati restaurati oltre una ventina di frontespizi, ma di due facciate in vicolo della Fontana, una laterale della Contrada Maggiore, nei pressi del Duomo San Marco. Al collaudo e metaforicamente alla consegna alla città, sono intervenuti il restauratore Giancarlo Magri, per la fondazione Crup che finanzia il recupero delle facciate Gian Battista Cignacco, Paolo Casadio, della soprintendenza che vigila sugli interventi, i proprietari degli edifici e funzionari comunali ai quali devono rivolgersi i privati che intendono avviare il restauro delle loro proprietà nel centro cittadino e l'assessore comunale all'urbanistica Martina Toffolo. Si aggiungono altre due nuove facciate al patrimonio della città di Pinta che abbiamo a Pordenone. Due restauri che sono stati realizzati nel vicolo a fianco al Duomo e che oggi la soprintendenza, il professionista e la fondazione ha consegnato alla città. Il progetto Facciate del Corso prosegue negli anni con costanza e questo va a arricchire il nostro territorio. Appunto due nuovi tasselli per una città sempre più accettabile, vivibile, accogliente e che mostra con orgoglio le sue facciate decorate a tutti coloro che la vorranno scoprire anche dal punto di vista turistico. Quindi un'importante occasione per noi perché una riquilificazione è sempre un momento di crescita per tutta la collettività.